Noi da anni diciamo che ci sono delle cose prioritarie da fare, fra queste la pulizia degli invasi che purtroppo ancora non è stata fatta, nonostante l'assessore Aguzzi lo avesse promesso, non appena insediato ha detto che si sarebbe messo in movimento per fare questa cosa e invece ancora è lì. Quindi quello che avremmo potuto prendere dalle piogge invernali e conservare per adesso non c'è. Al tempo stesso però si parla di un nuovo invaso, è un po' contraddittoria sta cosa, a parte che noi riteniamo pur non scartando niente come soluzioni per carità siamo disponibili al confronto, però un nuovo invaso che cosa significa? Significa che ci vorranno almeno 10-15 anni per farlo, perché la progettazione, trovare i soldi, il luogo e tutto quanto, meno di quel tempo non ci si mette e allora il problema non è che lo risolviamo perché non possiamo aspettare 10-15 anni, è ovvio, senza contare che un nuovo invaso significa 200-300 milioni di investimento, quindi somme enormi. Allora noi per esempio pensiamo che sia più utile fare una serie di laghi più piccoli che costano molto meno, che in un anno si fanno se uno ha voglia e che ci possono risolvere i problemi anche nell'immediato, poi per carità senza scartare nulla ma insomma dando delle priorità, questo è il punto. Così come riteniamo che non si possa più utilizzare l'acqua potabile per annaffiare, cioè per l'agricoltura o per l'industria, non è più possibile. Abbiamo questi grandi problemi, riteniamo che sia necessario avere un confronto, ma non solo gli enti locali fra di loro, credo che la regione e i comuni si debbano confrontare anche con le organizzazioni ambientaliste, perché non si fanno prima le scelte e poi dopo si consultano con le solite polemiche che vediamo ogni tanto e anche in questi giorni a proposito dell'abbattimento degli alberi. Quindi disponibile è un confronto sulle varie questioni con relazioni tecniche che peraltro ci sono, perché le tre università, Ancona, Urbino e Bologna, hanno fatto uno studio su questo, che noi avevamo sollecitato un anno e mezzo fa e dicono delle cose precise, quindi bisogna mettersi a tavolino e verificare che cosa c'è da fare nell'immediato.